Cosa è successo nella casa del Petraro? Cose belle. Abbiamo dato voce a Mad24 che è la mia ultima creazione. Si tratta di una tragedia moderna di una mistica del Seicento, un personaggio realmente esistito, una aquilana religiosa che non fu né santa né suora e al tempo stesso rifiutò anche di essere madre, moglie, per poter vivere la propria religiosità come un modo di autodeterminarsi e di essere individualmente libera. È un personaggio dalle cui carte abbiamo io, l'autrice del testo sono io, la compositrice della musica è Roberta Vacca, con Andrea Matucci lo portiamo in scena, questa tragedia che è il modo migliore per far emergere i conflitti e appunto attraverso l'indagine, l'introspettiva di una donna moderna, siamo riusciti in un'operazione di portare il passato nel presente, siamo riusciti a far emergere appunto la figura di questa mistica di cui è stato ritrovato un manoscritto e che altro non era che un diario estorto dal Sant'Uffizio per trovare delle prove di eresia. Una donna che in realtà aveva scelto la propria religiosità per autodeterminarsi e avere una propria individualità.